L'Italia è una terra di lavoro, la cui anima è Claudio Saltanelli, organizzato l'Ele Sardegna. Organizzato questa giornata per parlare della nostra storia. E siccome noi siamo una libertà e parliamo cantando la lingua più musicale del mondo, io con molto i miei amici di Sopalco di Giuliano, che durante la capenza cercheranno di affidarlo qualche canto identitario. Buona giornata a tutti.